Ciao a tutti e ben ritornati sul mio canale. Oggi come vedete iniziamo un nuovo gioco. Ci troviamo all'interno di un appartamento. Questo gioco si chiama House Flipper e ci permette di ristrutturare delle case. Questo sarà il nostro ufficio che man mano allestiremo appena riusciremo a raccimolare qualcosa di soldini. Ma vediamo un po' il da farsi. Qui allora praticamente vedete ci sono tutti gli oggetti in base alle stanze, cucine, magna bella che noi dobbiamo comprare per effettuare le ristrutturazioni. Qua abbiamo un tablet e in questo tablet troviamo sia le case che poi in un secondo momento rivenderemo e troviamo anche per esempio la posta. Nella posta noi troviamo tutte le richieste che ci vengono fatte e quelle là a tempo. Eccolo qua. Allora tra 16 minuti e 18 secondi avremo il ricompenso di un lavoro fatto in precedenza perché praticamente video di la verità io l'ho iniziato e ho visto un po' il tutorial di come funziona questo gioco e poi l'ho deciso di portare. Quindi a questo punto direi di andare a soddisfare la richiesta di un nuovo cliente. Partiamo da qua. Salve la signora Anna necessita. Aspetta io qualcuno non l'avevo finito ancora. Aveva una curiosità. L'avevo voluto. Non mi ricordo. Andiamo con questa qua. Cosa ci dice? No ci mancano 1300 per completarlo. Però abbiamo iniziato. Bravissima. E intanto magari in quei 16 minuti ci verranno dati degli altri soldini. Eccoci qua. Cosa ci richiede questo gioco? Come prima cosa vedete in basso ci porta a corridoio. Butta la spazzatura. Basta cliccare sull'immondizia e iniziamo a gettare tutta l'immondizia. Suzza che ci troviamo nei dintorni. Praticamente ci sono delle missioni che vengono dette proprio da loro come tipo a gettare l'immondizia e tutto. Ora abbiamo il mocio. Il mocio ci serve per togliere le macchie da questa stanza. Una volta completate tutte le missioni passiamo a un'altra stanza. Sostituisci gli oggetti evidenziati. Quindi ora ci evidenzierà degli oggetti. Dove sono gli oggetti evidenziati? Da sostituire. Corridoio. Andiamo ad un'altra stanza. Ah no. Qua ho sbagliato. Ho preso. Ah eccola. Allora cliccando qui noi prendiamo l'oggetto che dobbiamo sostituire. Ovviamente lo paghiamo e poi ce lo fa installare. Vedete? Ci dice che c'è... Allora lava le finestre. Quindi dobbiamo andare nel salotto. Permesso. Buonasera. Scusate il disturbo. Sono venuta a pulire. Eccoci. Vedete? Ho fatto proprio un bel servizietto. Ho lavato le finestre. Ora ci dice di pulire le macchie. E noi puliamo le macchie. Vuoi che belle tende a pua? Mi piacciono molto queste tende a pua. Sotto e in basso. Oltre a darci la missione ci dice pure quante macchie, per esempio, ci sono da togliere. In questo caso 10. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale. di mettere un like per sostenerci, in quanto il canale, essendo piccolino, ha bisogno di tutto il vostro sostegno. Di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video da noi pubblicati. Ecco qua. E abbiamo pulito. Ora dice sostituisci gli oggetti. Ma avevo visto qualcuno. Eccolo là. Sostituisci gli oggetti. Ok. C'è un altro. Io l'avevo visto. Eccolo là. Questo è il doppio. Ma perché è disposto? Mannaggia. Abituata che per pulire devo cliccare. Automaticamente invece di spostare io clicco sopra. Sì, sono sicuro. Mettiamo. E due. E sono avvitati. Benissimo. Ora vedete questo? Questo ci permette di vendere alcuni oggetti all'interno della casa. Mi dice che devo andare in bagno. Permesso. Questa è la cameretta zuzza. Permesso. Eccolo qua il bagno. Allora dobbiamo vendere. Mamma che bagno. Vendiamo tutto il bagno. Mamma. Vedete? È uscita l'icona che abbiamo cose da migliorare. Ah, lo specchio ce lo salva. Mamma. Ora dobbiamo aggiustare i buchettini alle piastrelle. Quale si dice? Al quadrato. Cerchiamo. Al quadrato sono queste. Al quadrato queste. Le dobbiamo sbloccare. Colore. Queste. E passiamo al successivo. Vedete? Siamo un tuttofare. Sì. Siamo la ditta le coccole di Carmen. Perché renderemo la vostra casa una vera e propria coccola. Qua invece. Piastrelle rpg. Piastrelle. Ah, qual è qua? RPG. Celestino. Perché mi piace come colore. E quindi la, diciamo, cliente si farà adattare il celestino come colore. Guardate come sto ristrutturando casa. Tanto ci ha detto solo la qualità delle mattonelline, delle piastrelle e non ci ha detto il colore. Quindi io il colore lo decido io. Guardate come sta cambiando questo bel bagno. Con la ditta di ristrutturazione le coccole di Carmen. Sarà garantita che la vostra casa sarà azzurra. La maggior parte delle cose. Bagno, sostituisci gli oggetti evidenziati. Prese, prese, presine, presette, presucce. E dove sono gli oggetti? Eccolo lì. Wow, lava le finestre. Perché nel bagno qua sta una finestra? Ah, nella cucina. Pardon. L'abbiamo le finestre, signora, scusate. Ma io devo, sono la ditta a tutto fare. Ecco qua, guardate, guardate. Prendiamo il mocio. E puliamo questa zozima, io. Solo che schifo lavare col mocio. A meno uno stracetto. Perché, immaginatevi il mocio sul tavolo. Sostituisci gli oggetti evidenziati. Excuse me, signor. Ecco qui, excuse me. Mettiamo una bella lampada tonda, ok. Un bel farettino. Guardate come sono brava, sono in tutto fare, guardate. Come so, va. Butta la bocchita sia. Ora dobbiamo andare nella cameretta dei bimbi. Scusate, bimbi. Avete una schifezzola in questa cameretta? Abbiamo, però, una brutta notizia. Abbiamo pochissimi soldi. E non so se ce la facciamo a terminare De tutto la casa, no. Mi mancava solo questo, sto, non so. Vi esco a pulire un fondo. Mamma, che zozzi mia, questi bambini. Mo, camera lava le finestre. Ovvio, è l'unica cosa che diciamo più pulita della casa. Di questa camera, no, della casa. Laviamo bene, siamo in editta di lava asciuga. Perfetta, benissimo. Guardate come sbrilluccica tutto. Siamo qua. Prendiamo un bel quantitativo di intonaca E vieni qua, spiaccichiamolo qua sopra. Fum. Guardate come sono brava, anche intonacare. Prendiamo un altro bel quantitativo di intonaca E, fum, riempiamo qua. Mi scusi. Prendiamo un'altra quantità industriale di intonaca E mettiamola Ma c'è, sto, stanno i vandali in questa casa Oh, dobbiamo riverniciare casa celeste E qui, mo sorge il probleming Allora Non mi ricordo più Prendi qua Prendi lo scanner E vediamo E vediamo L'intonaca E 120 La pittura La vernice Per meglio dire Costa di più Non dobbiamo vendere niente qua Fammi vedere Sostituisci gli oggetti in evidenza Acquista set the boeing Allora Vediamo di fare prima Sostituire gli oggetti in evidenza Ah, eccolo là L'unico Eccolo qui E schiacciamo qui E' la doppia Bene Non ho i soldi Manco per sostituirli in evidenza Eh Mo Direi Tablet Le mie case Fra un minuto e trenta Dovremmo avere un'altra ricompensa E con questa ricompensuccia Di un minuto e trenta Noi possiamo terminare questa casa Questi obietti Quindi io direi di aspettare questo minuto e trenta Eccoci qua di nuovo Tornati Il tempo è passato E così possiamo Eh Terminare questa Se io devo restare Sì Di questa Missione della casa Vediamo Andiamo Topi Avvitiamo tutto Io penso che siamo quasi giunti alla fine Grazie Abbiamo tutti i premi Grazie mille Mo Che ci manca Acquistare Set di bowling Crossway Set di bowling Ti pareva Ok grazie Ok grazie Ok grazie Azz Sto set di bowling Ci costa un occhio della testa Acquistati Tre Palla da bowling Mo Pure perché giustamente Mica ci può mancare la palla da bowling La mettiamo qua Ok E infine Aereo giocattolo E ci costerà un botto Verde Sì Dove sta l'aereo Aereo giochino Lo posizioniamo qui Ora dobbiamo ridipingere casa Con la vernice celeste E sarebbe questa Acquista Appoggiamola qui Prendiamo il nostro bel rullo Lo insuppiamo tutto 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 Mi sa che qua Ci vorranno Due barattoli Vedete come siamo bravi Siamo una ditta talmente bravi Che noi ridipingiamo le pareti Senza neanche dover usare Come si chiama Senza dover spostare i mobili Guardate come siamo bravi Guardate come scende anche la pittura All'interno del nostro Contenitore Ecco qua Andiamo avanti Guardate il rullo Si schiarisce man mano il colore Vedete Questo poco qui Io lo farei qui sopra Grazie Non era doveva puntato però Grazie signore Mi sa che stiamo a finire la pittura Signora Ce ne deve procurare dell'altra Si certo certo Faremo un servizio perfetto No non termino proprio Ma la missione Alla fine Però che bello azzurro Mi piace questo numero qua Di colore Qui 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 Mi sa che ho finito La vernice Andiamo avanti Signora per poco Dovremmo comprare Un altro rullo Compressore Allora Un'altra vernice Acquistiamo Altri soldini E questa volta Ce la piazziamo Quedando poi dopo Ce li vendiamo I barattoli Opla 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 Ultima parete Opla Grazie 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 Non ce l'abbiamo fatta A venderci Il rullo Perché abbiamo finito La missione Ora dove andiamo Siamo tornate A casuccia nostra Praticamente La ricompensa di questo lavoro Fatto Noi l'avremo Fra 4 ore Perché 3 minuti e 59 Vedete Stai in alto a destra L'orologio Che ci dice La ricompensa Quando l'avremo Era praticamente Il stesso colore Che stavamo facendo L'ufficio A casa nostra Quindi a questo punto Abbiamo distrutturato Una bella casa E direi di fermarci Qui per oggi Con questo gioco Nuovo Vi ripeto Si chiama House Flipper Fatemi sapere nei commenti Se conoscevate già Questo gioco Se vi piace Se volete vedere Altri episodi Di questo gioco E vi ricordo Di iscrivervi al canale Attivare la campanella Per rimanere sempre Aggiornati Sugli ultimi video Pubblicati Di mettere un like Per sostenirci In quanto È un canale piccolino Quindi ha bisogno Di tutto il vostro sostegno E infine Di lasciare un messaggio Nei commenti Se volete Essere salutati In un prossimo video O per suggerirmi Qualc'altra tipologia Di gioco O di video Da portare Su questo canale Che dirvi di più Un bacio Alla prossima Ciao a tutti